Padovano, sono partiti i lavori da qualche giorno al porto di Pescara, però lei parla di alcune priorità che bisogna mettere in primo piano, un nuovo cantiere navale, la creazione di un polo culturale e poi il ritorno già dalla prossima estate del collegamento con la Croazia. Noi all'interno dell'autorità portuale stiamo dando una grande mano alla città di Pescara, devo riconoscere che sia il Comune che la Camera di Commercio si stanno attivando per quanto riguarda il collegamento con la Croazia e se non ci sono intoppi in giugno avremo un collegamento dal porto turistico di Pescara con la città di Spallato e questo per quanto riguarda l'attività turistica. Invece adesso sono iniziati i lavori, questa mattina sono andato al porto, è arrivato il secondo puntone per fare in modo che questo molo a nord di Ponente possa essere messo in opera da subito, cioè entro l'inizio della stagione prossima e già con questa struttura avremo debellato definitivamente il divieto di bagnazione per quanto riguarda la zona nord di Pescara. A seguire però dobbiamo mettere mano a questo polo culturale che si dovrà realizzare all'interno dell'area mercatale del porto di Pescara e ci riferiamo al mercato istico all'ingrosso, al mercato istico al minuto e il museo del mare. Tutto questo deve rientrare in un'area prettamente culturale. Certamente c'è un programma, un cronoprogramma che adesso l'ARAT sta portando avanti, nella prima fase, nel primo tronco riguarda il molo di costruzione di Ponente, ma nel contesto lo spostamento del cantiere può rientrare tranquillamente all'interno di un cartaceo. Non è che c'è bisogno di pensare. Nel cartaceo si individua l'area, l'autorità portuale mette a evidenza pubblica quell'area in concessione per un cantiere ed ecco qua che può arrivare un privato e può realizzare a spese proprio un cantiere navale ad hoc idoneo per quanto concerne le attività cantieristiche.